Musica 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 Sì, si stanno allarcando, quindi devi scolvorarli e mettere qualcos'altro in quel momento. Ma è un'utopia, ma se lui l'ha sempre, lo sai quando è? Sempre, sì, è come diceva che non c'era una domanda. Sì, si stanno all'interno. Sì, si stanno all'interno. Sì, si stanno all'interno. Sì. 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 Sì.